Un bus purtroppo è giunto in una scarpata dopo essere sbandato in un'autostrada ed ha, pensate, creato ben 10 morti. Tutto ciò si è verificato in Peru, nella regione di Amazonas, colpita già duramente da un terremoto che ha letteralmente distrutto la regione in questione, un terremoto di magnitudo 7.5. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, in mezzo viaggiava tra le due località, ossia quella di Mojobamba e Chacapoyas. Ben 10 morti, 7 in totale i feriti circa, di ciò ci informa RPPP, notizia della città proprio capitale del Peru, ossia la città chiamata Lima. Insomma, una vicenda questa che è dell'incredibile, questo bus che ha sbandato 10 persone che sono morte, 7 figli in totale, proprio una vicenda che è dell'incredibile. Vi ringrazio per l'ascolto, il mio termine è qua. Ciao a tutti, Dariando, narratore italiano.